Chiara tu in questa partita farai il pazzo Il pazzo su Minecraft che dovrà Che dovrà ucciderci e inseguirci Esatto vero E noi dobbiamo allontanare il pazzo con questo bastone Quando ci inseguirà e praticamente Dunisiani dobbiamo anche Sopravvivere, dobbiamo nasconderci, dobbiamo sfruttare Tutti i posti Eh però non possiamo stare troppo tempo Fermi in un luogo perché altrimenti Moriamo Esatto vero No, devi inseguirci cara Chiara Quindi adesso iniziate ad inseguirci Gabri Tu devi venire con me però eh Ah devo venire con te Dove sei andato? Scusa sei inefficiente Sono qua, sono dietro di te Un attimo di pausa Chiara che adesso puoi ammazzare lui Mannaggia Guardate il bastone allontana pazzo È potente È potente Gabri Esatto vieni con me Andiamo andiamo Scappiamo da Chiara Andiamo Scusa cosa vuol dire questa parola che tu hai usato Che non significa niente a nessuno Questa cosa Chiara Con molta riservatezza Chiara ma non stai sentendo niente Ma sei come Scusami cosa vuol dire Come in che lingua parla Ma sono un pazzo L'oggio No è qui dietro di noi E poi devi fare una voce strana Chiara Eh ma c'è una voce strana No 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 è qui è qui è qui Gabri scappa Andiamo No perché questo Allora ci toglie Con il suo bastone lunghissimo Chiara ci toglie Oddio Ci toglie tre cuori a volta Quindi questa cosa è veramente terribile Dunisiani Sì esatto Mi prendo No No Andiamo 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 Aiuto No 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 Se ho capito Ma anche Cioè Dovevo mangiare Scudo umano per Dennis No Esatto È brava È brava che mi hai chiamato Dunis Vai via Oddio sono volata Hai visto Allora Gabri però se tu parli sopra Chiara Dopo questo video diventa Un casino No come Esatto Non volevo Allora poi non possiamo correre per tutto il tempo Devo stare ad affrontarla qualche volta Quindi Per me vai via Gabri aiuto Mi ha tolto tre cuori Ok Aiuto Anche a me ha tolto Scusa ma cosa scappi Devi scappare quando scappo io No perché Dunisiani È una nuova modalità Che Dunis E gli altri ci siamo inventati noi Quindi praticamente È un po' Un po' all'inizio Siccome fin quando non si faranno le regole Chiara Cioè volevo dire Gabri Che abbiamo seminato la Chiara Oh meno male Non sarete mai Per carezza divina Stai attento Gabri Sì sì stiamo attenti Gabri No mi sto facendo Non ci deve No 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 Ah Oddio Stupida Cioè io posso metà vita cadendo Allontano Guarda che questo Andiamo Ah questo bastone allontana il pazzo Comunque Gabri è un po' Sì è bello È un po' una madonna Comunque No È bellissimo Lo adoro Ma scusa ma guarda che un complimento Cioè appena ho detto una brutta cosa Sto dicendo no Eh Gabri Ti conto di quello che dici Vai dietro di me Idiota Eh sono dietro ora Non si può dire Non si può dire Chiara Allora Lontani Dove stai andando Ah ecco ti qua Uno qui Dobbiamo nasconderci dal pazzo Gabri devi venire con me Sì sì dobbiamo nasconderci Dobbiamo nasconderci Perché questa qua è pazza Ci vuole far Aiuto Ci vuole Dove siete amici Cosa voleva dire Ragazzi Amocchi Amocchi Aiuto donisiane Aiutateci Non è che voleva dire Un'altra cosa No no Amori Tesori Dove siete No 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 Gabri vieni con me Adesso Sì sì ci sono Qua possiamo spiarla Hai capito Poi vi ho persi Eh meno male Meno male Eh esatto Allontana il pazzo Ah comunque io stavo per dire Che abbiamo quattro minuti Se il pazzo non ci riesce Ad uccidere in quattro minuti Ha perso questo pazzo schifoso Quindi però Io non l'avete Dai Eccola La vedo Se tu urli Lei ci scopre Quindi No Eh guardatele lì Eh la madre Donisiani Aiuto Andiamo Vabbè ok andiamo Andiamo No però usiamo le litre Ti ho visti Eh grazie Che schifo Mezz'ora dopo ci hai visti Esatto Adesso arriviamo giù Ti facciamo proprio fuori Mamma mia Con il bastone Cos' No Gabri Gabri Ti difendo Ti difendo Gabri fa da scudo umano Esatto No 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 ho quattro cuori Oh porca miseria Ragà Cioè questo bastone Questo bastone Uccidone Come si chiama È pazzo Cioè nel senso No ho solo tre cuori Ho tre cuori Ho due cuori Ulticamente c'è Eh nel senso Ok aspetta un attimo Gabri stava ridendo Do sopra Chiara E non si stava capendo Chiara stava parlando Basso Tutto ad un tratto Non so cosa è successo Ho capito che sei pazza Ma non fino a questo punto Mannaggia te Adesso ti do Proprio gli scapellotti No Sì Ho ucciso Gabri No Dennis Sei da solo Come è che hai detto Sei da sola Da solo Ecco No no Perché io ho preso Nel senso Non la certa Non lo so Cioè io non lo so Tieniti un attimo Io devo guardare un attimo Dove sta Sta webcam Giuta Vai via Hai perso ormai Vai via Puzzi Come ho perso Se i quattro minuti Si sono passati da mo Ah vabbè Intanto il ciuto L'ho ucciso Che schifo Esatto Hai ucciso il ciuto Sì soddisfatta Della tua azione Da criminale Allora Come avete visto Ho un altro Coso qua in mano Un altro bastone Diciamo Praticamente questo bastone Oh grazie mille Che mi hai dato l'armatura Da pazzo No adesso sei te Il pazzo Dennis Esattamente Caro Gabri Adesso io cercherò Di uccidervi Con le mie mani Qua No Ciuta Scappiamo Scappiamo Ciuta Sì però stavo già Per ammazzare Chiara Non è possibile Ah Vieni subito qua Chiara Chiara No 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 Io ho poca vita Scappiamo Scappiamo Gabri Sei legale Ah ma non si può Ah Ho capito Allora te vengo anche Ah levo 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 subito Cos'ha fatto Ha osato Spostarmi indietro Con il bastone Sì Perché se lo muoio No Come ho osato Fare questa cosa Dunisianica Gabri Mi ha fatto Ho fatto Ho fatto Ho fatto Ma voi mi state Facendo sputare Lo schermo Non è possibile Non riuscivo a muotermi Gabri Fai la sputa umano Sì 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 Andiamoci No 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 Dai non è possibile Sta roba del bastone Allontana pazzo È troppo pro Non è possibile No no è bellissima È bellissima Ho capito Mannaggia A te Gabri Se ti prendo Se ti prendo No Basta Adesso ti prendo la spada E ti ammazzo Basta No 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 ciuto È sbagliato Faccio slash kill Adesso Faccio slash kill No 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 Eh sì Adesso ti fermi ciuto Ti fermi Perché hai osato Hai osato Sconfiggere Dunis Questa cosa Non si fa mai Nella vita No Cosa Cos'è Continua Vado Vado No 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 Ho mezzo cuore Dunis Grazie Mi scusi No 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 Hai fatto bene Hai fatto bene Hai fatto No 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 Aiuto No Se non ti faccio fuori Adesso No Non è giusta Questa cosa Se non ti spaventi Ammazza male Ammazza male Però se non ti spaventi È noioso Quindi vi dovete spaventare Tutti e due Dovete urlare Io mi sono spaventato Mi sono spaventata Allora avete No dovete urlare però Perché se no non si capisce Mannaggia vai via Tu che putt Adesso l'ultimo turno Tocca a Gabri Sì Magari in questo turno Duni si ricorderà Di mettere il timer Allora 3 2 Via Ok via Non ho vestito da pazzo Non ho vestito da pazzo Ma poca miseria Me l'hai messo proprio Davanti a me Mannaggia te È per dargli il vestito Al tuo bastone Ah beh giusto No vabbè ma chi se ne frega Lui sta senza il vestito No Tanto E Gabri cosa vuoi Cioè nel senso Già è pazzo di suo Ma infatti Ma infatti Ma infatti Cosa è chiara No senso che senza i vestiti Del pazzo Questo intendo Pervertita No 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 Sì ma pervertita Veramente Cioè con tutti Cioè tutti Ma vabbè È vero Non andiamo Non andiamo nei dettagli Dunisiani Perché se no È qui è qui No 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 Non mi fa cagare Denis no Via Pazzo Brava Brava Chiazza Servetta Brava Ho mezzo cuore Però No 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 Io l'ho avvicinato Aspettate un attimo Gabri fai schifo Gabri adesso ti faccio No Gabri vai via No 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 Se mi uccidi No no va bene Sai che non puoi uccidere No sei in casa mia Sai che non puoi uccidere Duniso Sai vero questo No ma come No ma come Hai fatto bene Ho fatto bene Come ho vendicato La mia chiara Non è possibile La tua chiara Non ti permettere mai più Sai Non ti permettere mai più Di uccidere Allora Gabri tu sei Anti Anti sportivo Anti costituzione Non so se Dunisiani Costituzionale Qua sto dicendo Non stanno niente Però Gabri Ma essere più Così anti sportivo Tu già prima Ti eri meritata La punizione Guarda che poi Te la faccio fare Riplicata Uno dei dunisiani Aveva scritto nei commenti Che Gabri doveva fare La punizione Di dare tipo 32 diamanti Ok 30 dunisiani 32 diamanti Non dire cavolate Gabri Perché sennò Poi dopo Dunis Si arrabbia E poi sai come va a finire Allora Quindi questi 30 diamanti Me li devi dare A me Però Li faccio Ritriplicati Eh Triplico Eh Mannaggia te No Con ammazza male Ammazza male Adesso facciamo il turno flash Di Dunis Pazzo Va bene Perché è bello uccidere Sembra giusto Si però non correrete troppo Perché sennò poi dopo Dunis Avrà la meglio Sulle vostre chiappette Perché chiaramente Ma scusate Stai morti Tutte e due In uno stesso momento No dai Io sono vivo E poi quando dovete parlare E che prima parlava più Eh infatti ma perché poi dopo Aspettavo dicesse qualcosa Datevi i turni di parole O creatura Aspetta che mi prendo il cibo Perché sennò poi dopo io qua muoio Ok perfetto Ah via Sì sì andiamo andiamo Dove si mannaggia A voi Venite subito qua O creature Non permettevi Scappa 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 Cos'è sta Scappa scappa Ah Gabri Gabri scappa Scusate Siete morti di nuovo Ma almeno muore Gabri non io Beh infatti Gabri Ah ma mi sa che Gabri Cos'hai fatto No no Vieni subito qua Mannate Oddio Io scappo Mi hai mandato in urbe Chissà Scusami Cioè io ho veramente Chiara Io sono scioccato da te Dalla tua Non lo so Sciocca Chiara Chiara Annaggine Dove sei Oddio Eh sapessi Io so dov'è Però è segreto Il posto dov'è Utilizzo il mio occhio Di falco Per vedere Chiara Vai utilizzalo Utilizzalo Vieni qua Questo era il mio occhio di falco Adesso dovresti farti vedere idiota Veloce Veloce Sono qua Sono qui Ma è possibile che non mi vedi Ah ciao Ah adesso ti uccido Ah No vai via Deve ucciderti No mannaggia Ti devo ucciderti Prima che finisca No 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 Secondo me comunque No Perfetto Duni sei proprio Forte Mua Proprio Bellissimo Allora dunisiani No infatti che stifo Abbiamo concluso Direi questo video Fateci sapere se Se vi piace questa modalità Bellissima del pazzo Dove urliamo Speriamo di non aver urlato Troppo per l'amore del cielo Per carità Gesù Piano Scusami Sono anch'io E ciao Sono anch'io Ciao 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 No 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 Ciao Ciao Non è il bastone Che è la tua spada Comunque Davvero Sì Cos'hai detto No 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 Va bene questa cosa Ma poi che caspita di bastone È questo Vabbè Addio Ciao amici Iscrivetevi al canale Dunisiani Lasciate like Commentate Con Bella questa modalità Se vi è piaciuta O brutta questa modalità Se non vi è piaciuta Perché chiaramente Ci sono gusti e gusti E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao dunisiani Ciao Ciao